Come promesso, dopo l'apertura di Vex, Biblioteca del Lido e quella di Marghera settimana scorsa, siamo pronti ad aprire anche gli spazi dedicati ai bambini e quindi apre la Vex Junior e la Bettini Junior da lunedì. Quindi tra due giorni sarà possibile tornare a frequentare non tanto gli spazi interni purtroppo, ma se non altro a venire qui al bancone e ottenere il prestito che avete in mente, il libro che volete leggere e portare a casa. Noi speriamo quanto prima di potervi di nuovo accogliervi nelle stanze con le nostre attività, però voi sapete che al momento è quello che è. Però intanto ripartono i prestiti e nella prossima settimana daremo anche apertura a tutte le altre strutture della Rete Biblioteca del Comune di Venezia per poter arrivare capillarmente in tutti i territori. Anche in questo caso massima sicurezza, plexiglass, igienizzante per le mani, consegna del libro in un posto separato rispetto al ritiro e soprattutto poi la quarantena anche del libro che resterà 14 giorni chiuso in una stanza per poi tornare sugli scaffali. Quindi cerchiamo di tenere insieme il servizio cittadino con la massima sicurezza di questo.